Musica 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 salta no? salta lì bravo e ora si do passi fischia fischia bella alta poco tira maronna per quando bravissimo mannaggia la pia esce il numero 9 dietro balistrieri entra il numero 20 davide evato bello no ma non devo fare ricordo chiaro questo ricordo ci ha dato meno male meno male ragazzi e vai fortissimi e va qua uno vai va qua cazzo vai tiraci non voglio dire che sono andato con la febbre per vedere un solo rigore no rimane là dentro rimane là dentro di corsa su crossa ehi la palla è un po' che cazzo bello che ci sta lui e le vaffini a sti cazzi no non gliel'ha dato il suo rigore all'or non gliel'ha dato il suo rigore all'or entrato Moscone per i nero stellati è un giocatore molto fastidioso non gliel'ha dato il suo rigore che già hanno reclamato il rigore è lunga non è lunga era lunga era lunga era lunga piglia ce la piglia ce la vai vai mi ricordo di degli spazi dell'Africa vai vai in aria fatti meno per terra un'altra volta insisto vai 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 eeeh e fischia di male ma che cazzo stai a dire ma che cazzo stai non gliel'ha dato 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 Ololo! Ololo! Ololo!